Buonasera, ben ritrovati con In Politica, speciale elezioni. Noi stasera affronteremo quello che avverrà a Monteroni d'Arbia, uno dei comuni contigui a Siena, magari dopo parleremo anche di questa relazione con il capoluogo. Vado a presentare i candidati sindaci che sono Mauro Galeazzi, Pietro Rossi, Gabriele Berni e Linda Priori. Buonasera. Buonasera. Mauro, parto da lei e le chiedo, lei si candida con una lista civica di impronta di centro-sinistra, come mai ha scelto di fare questo passo avanti e di andare forse al lato di quello che è lo schieramento capeggiato dal PD? Io sono stato iscritto al partito per 50 anni, 5 anni fa sono uscito, abito e risiedo a Monteroni da 30 anni e non mi sono più ritrovato, come tanti altri come me, si sono allontanati dal PD, in particolare dal PD monteroniano, in quanto è diventato personalizzato, diciamo così. Avevamo 6-700 iscritti anni fa, quando io ho avuto l'occasione di fare anche l'assessore a fine degli anni 90 e ora siamo ridotti a poche decine. Quindi qualche problema c'è, qualche problema c'è e di fronte ad una amministrazione che per 10 anni riteniamo abbia fatto poco o nulla o quello che ha fatto insufficiente e non adatto, abbiamo deciso di fare una lista civica che includesse persone che avevano delle idee da proporre, programmi, progetti e tutto questo per il bene dei Monteroni e della sua popolazione. Troppe cose non vanno, troppe cose non sono state fatte e si potrebbero fare un elenco. Dopo lo faremo, l'elenco? E quindi in breve per ovviare a questo problema abbiamo deciso con tanti altri di darci questa connotazione di lista civica dove dentro c'è prevalentemente gente che ha voglia di fare idee, ripeto, e soprattutto che non ha approvato quanto la precedente amministrazione ha fatto per 10 anni fino ad oggi. Pietro, lei non rappresenta una lista civica, rappresenta il Partito Comunista Italiano che credo torni dopo tanti anni a presentarsi sulla scena politica e quindi chiedo un altro schieramento a sinistra del PD. Noi siamo la sinistra di classe, siamo alternativi sia al PD, al centro-sinistra che chiaramente al centro-destra. Siamo l'unica forza, l'unica lista con una connotazione politica, gli altri si nascondono tutti dietro a liste civiche e noi abbiamo la nostra connotazione politica, la nostra scelta di campo. Stiamo con gli ultimi, di qualunque razza, colore, noi stiamo sempre dalla parte degli ultimi. Gabriele, lei rappresenta l'amministrazione comunale da 10 anni, essendo un comune sotto i 15 mila abitanti ha avuto la possibilità di correre per un terzo mandato e quindi le chiedo perché ha scelto di continuare in questa avventura alla guida del Palazzo Comunale. Guardi, come appunto ha avuto modo di dire lei, la nostra è un'esperienza che inizia 10 anni fa. Nel 2014 noi abbiamo dato vita a questa lista composta per una parte dal sostegno delle organizzazioni politiche e per una parte da tante persone che sono espressione del mondo civico, quella parte positiva del nostro Paese che contribuisce in maniera particolare ad alimentare il nostro tessuto sociale, a creare vivacità, appunto questo universo che rappresenta una ricchezza per il nostro territorio. E tutti questi soggetti dopo 10 anni, quando appunto è stato reso noto il provvedimento che ha consentito la candidatura al terzo mandato, si sono riuniti, come fanno le organizzazioni politiche, in questo caso il Partito Democratico, il Partito Socialista, Italia Viva più Europa, si sono riuniti, hanno fatto una valutazione su quello che è stato appunto l'operato dell'amministrazione in questi 10 anni e tutti i soggetti politici hanno espresso una valutazione positiva, anzi direi unanimemente positiva. E quindi a seguito di questa valutazione che poi si è unita alla valutazione di tutti i soggetti e fanno parte del nostro Comitato elettorale allargato, ma che non partecipano attivamente a nessuna organizzazione politica e quindi non appartengono e non sono militanti di nessun partito politico, anche loro hanno espresso una valutazione positiva su questi 10 anni di esperienza amministrativa e quindi mi hanno chiesto in quel caso di riflettere sulla disponibilità ad andare avanti. Quindi questo è stato uno stimolo molto importante che mi ha spinto ad assumere la decisione di ricandidarmi per la terza volta appunto al Sindaco del Comune di Monteroni d'Arbia. A questo voglio unire anche un altro aspetto molto più concreto. Noi quando ci siamo trovati ad affrontare il periodo di emergenza sanitaria che ha fortemente condizionato per tutti, non solo per l'amministrazione comunale di Monteroni d'Arbia, l'esperienza di questi 5 anni, insomma basta ricordare che quasi 3 di questi li abbiamo impiegati per prenderci cura delle persone, quando le persone vedevano fortemente limitate le proprie libertà individuali, alcuni anche la possibilità di andare al lavoro. Nonostante quello quando abbiamo avuto il presentimento e abbiamo iniziato a sentire parlare degli importanti fondi comunitari che potevano essere messi a disposizione delle realtà locali per investire in politiche di sviluppo e crescita, noi abbiamo destinato tutte le risorse disponibili del nostro bilancio, circa 800 mila Euro alla predisposizione di un parco progetti che ci ha consentito di accedere a molti finanziamenti e oggi ecco parlano i fatti. In questi 5 anni nel Comune di Monteroni d'Arbia sono stati realizzati investimenti fra quelli gestiti direttamente dalla nostra amministrazione comunale, 15 milioni e il resto dai soggetti sui quali l'amministrazione comunale esprime un potere di orientamento e di indirizzo per arrivare a 30 milioni di Euro di investimenti nel nostro territorio. È un dato che mai nessuno aveva raggiunto nella storia del nostro territorio. Molti di questi progetti sono in corso e quindi uno dei motivi principali è perché io e la mia squadra avremo come dire l'intenzione, anzi la volontà e questo è l'impegno che prendiamo con i nostri elettori di portare a compimento importanti progetti. Mi piace citarne uno su tutto, la riqualificazione della vecchia grancia di Cuna e questo mi sembra già uno stimolo importante unito al forte legame che si è consolidato nel corso del tempo con la nostra comunità, in maniera particolare con il tessuto sociale che appunto rappresenta oggi un territorio che una volta veniva definito un dormitorio e invece oggi è uno dei contesti che esprime una maggiore socialità, occasioni di incontro ed eventi culturali che abbiamo appunto nel panorama della nostra provincia. Linda, mi immagino che lei non sia d'accordo con niente di tutto ciò che è stato detto, dopo magari ci dirà i motivi anche perché ha chiamato la sua lista, cambiamo Monteroni, quindi mi immagino che si vada proprio in direzione contraria a una lista civica sostenuta al centro-destra. Io ho creato questa lista civica sostenuta al centro-destra perché sono stata contattata a livello provinciale da alcuni esponenti dei partiti che mi hanno chiesto se avevo intenzione di cambiare in qualche modo Monteroni e in effetti Monteroni andrebbe cambiata, andrebbe cambiata non su tante cose quanto quelle basilari, è inutile avere dei campi da tennis lisci come biliardi quando ci sono delle strade, l'unica strada che ci collega verso la civiltà che è in condizioni non dico pessime ma insomma che ci va rimesso le mani e l'unica strada che ci collega verso Siena è anche l'unica strada in cui passa un passaggio a livello che periodicamente si chiude a intervalli e cadenze regolari e che crea notevoli disagi, specialmente la mattina quando tutti si riversano verso Siena perché Monteroni sì ha delle attività ma non tutte riescono a soddisfare l'utenza che è su di Monteroni, bisogna che la gente si sposti per forza per andare a lavorare, non c'è bacino, non ci sono così tante strutture che garantiscano il lavoro a tutti quelli che abitano il territorio. Di conseguenza il primo punto sarebbe quello di creare un asset, un qualcosa, un accordo con l'amministrazione di Siena, con la dottoressa Fabio e con l'onorevole Michelotti. Ho già avuto degli scambi, ho già fatto un tavolo per quanto riguarda la Cassia perché bisogna assolutamente creare questa strada che è lì ferma dal 2012. È uno dei grandi temi e sicuramente lo affronteremo il tema della Cassia. Riparto da lei Pietro, a priori citava una cooperazione con Siena, se ne parlava dieci anni fa e non è mai stata realizzata e poi credo sia rimasta lettera morta. Quanto, se lei la ritiene giusta, e quanto favorirebbe lo sviluppo di Monteroni in caso? La Cassia chiaramente favorirebbe un grosso sviluppo. Noi faremo il cane da guardia, tanto sulla regione che sull'ANAS e sullo Stato, in modo che la strada venga completata il prima possibile. Non si può più attendere. Questa è la nostra posizione su questo tema. Non possiamo più attendere che la strada sia lì ferma con i piloni che marciscono perché la ruggine poi corrode anche il cemento armato e quindi bisogna intervenire al più presto e noi faremo appunto il cane da guardia. Non faremo sconti a nessuno. Gabriele, le domande sul tema della grande Siena, come si parlava in tempo, se non mi sbaglio era diventato sindaco da poco quando si iniziò a parlare con l'ex sindaco Valentini di un programma con le amministrazioni contigue. Chiaramente non se ne è fatto niente, poi mi immagino che sia stata ancora più difficile con l'amministrazione del centro-destra e che governano Siena, quindi le chiedo se può questo filone riprendersi. Ma guardi, per quanto mi riguarda assolutamente sì, perché la nostra amministrazione fin dal 2014 è sempre stata disponibile ad un dialogo istituzionale negli interessi dei cittadini, dei nostri cittadini e del nostro territorio. Penso che le istituzioni, al di là di quello è il momento in cui presentano i propri programmi, che ovviamente hanno una propria caratterizzazione, debbano essere in grado, anzi è un dovere, lo ritengo, per chi si candida a fare il sindaco di una città di dialogare in maniera positiva e costruttiva con le altre realtà, anche se le altre realtà hanno delle caratterizzazioni politiche diverse. Però mi consenta di fare un esempio concreto. Abbiamo affrontato il tema della Cassia, intanto sento parlare del passaggio a livello. Vorrei sottolineare che il passaggio a livello dell'isola d'Arbia è nel territorio del Comune di Siena e non nel territorio del Comune di Monteroni d'Arbia, perché il Comune di Siena arriva fino al cosiddetto ponte della Tressa ed è un tema sul quale io credo che il Comune di Siena non abbia mai affrontato un ragionamento. Il tema della Cassia non è un tema che riguarda solo l'amministrazione comunale di Monteroni, nonostante che in questi anni solo l'amministrazione comunale di Monteroni. So che la candidata Linda a priori, se vado errato mi correggerà e chiedo anticipatamente scusa, si è candidata anche con le precedenti liste a sostegno del sindaco di Mossi. Sostanzialmente l'amministrazione comunale di Siena è stata non pervenuta sul tema della Cassia. Negli incontri frequenti abbiamo fatto con ANAS, se non, siccome mi piace essere obiettivo, dall'arrivo dell'ultima amministrazione comunale, con la quale infatti abbiamo fatto degli incontri anche in tema di programmazione e pianificazione urbanistica, perché credo che questi temi debbano coinvolgere tutti i territori indistintamente dalle caratterizzazioni politiche, perché per quanto mi riguarda la Cassia non è un tema da campagna elettorale, anzi me lo faccio a dire così. Francamente sono un po' infastidito da chi si ricorda la Cassia ogni cinque anni. Noi non abbiamo fatto questo. In questi anni abbiamo ereditato un cantiere fallito e abbiamo ripreso la progettazione che è stata presentata recentemente, la progettazione esecutiva e posso rassicurare anche il candidato Rossi che gli ingegneri che hanno redatto la progettazione esecutiva hanno fatto e sono ancora in corso di definizione una serie di rilievi sullo stato di consistenza delle opere realizzate e hanno già espresso l'indicazione che buona parte di queste verranno riutilizzate, se non tutte, nella nuova realizzazione, nell'opera nuova che verrà realizzata. In questi anni si sono raggiunti importanti risultati, perché dobbiamo anche sapere che la Cassia, prima di tutto, è stato grazie alla volontà di alcuni amministratori, fra i quali il sottoscritto e poi sostenuto dall'amministrazione provinciale, prima con il Presidente Silvio Franceschelli e poi con il Presidente Davide Bussagli, quando alcuni criticavano il fatto che noi spingevamo per il trasferimento delle competenze dalla Regione ad ANAS. Se oggi è possibile avere già 90 milioni di Euro stanziati e se oggi è possibile avere assistito alla presentazione del progetto esecutivo e questo ha consentito l'inserimento nel contratto di programma e quindi nelle opere 24-25 che riguardano appunto il piano delle opere di ANAS, è grazie a questo passaggio e voglio ricordarlo perché anche i 90 milioni sono frutto di un impegno e di uno sforzo che abbiamo portato avanti insieme alle altre istituzioni e si è controcredizzato nel 2021. Se oggi parliamo di qualcosa di concreto e quindi della possibilità concreta di realizzare questo intervento è grazie a questo impegno nel corso di questi anni, quindi noi abbiamo lavorato sul tema della Cassia a prescindere da quelli che sono i passaggi attore. Lo abbiamo fatto con grande sobrietà, mi ricordo dei precedenti sindaci che avevano fatto dei comunicati stampa dove anticipavano e annunciavano la realizzazione di questo grande intervento. A me non sentirete farli, ma sentirete, ma vedrete sempre un impegno su questo tema, nonostante che la Cassia non riguardi solo il comune di Monteroni d'Alevo. Priori, lei è chiaro che ha citato la connessione che c'è sia con il governo rappresentato in questo caso da Michelotti che con il sindaco di Siena, quindi non le domando questo qui, ma le domando il tema infrastrutturale perché lei l'ha citato come uno delle note dolenti del territorio. A livello di infrastrutture abbiamo solo quella strada che è la Cassia, che ci collega a Siena e ci collega poi anche alla Valdelsa perché non tutti lavorano fino al ponte della Tressa, c'è anche chi lavora oltre. Se il passaggio a livello non è stato sollecitato dall'amministrazione bisognava per quanto entrare un po' più nel merito, creare un po' più di movimento, di fare un po' più di pressing. Non è solo un problema di Monteroni, ma un problema da isoladare ben giù. C'è Buonconvento, tutti quelli anche della Val d'Orcia, la montagna e quant'altro. Io so di persone che anche da Montalcino vengono a lavorare a Siena, quindi anche loro passano quel passaggio a livello. Lì bisogna prendersi a braccetto tutti quanti assieme, tutti quanti i rappresentanti delle esposizioni locali e andare a parlare con chi di dovere, che possono essere le ferrovie, che può essere l'ANAS. Lì bisogna prendere una posizione perché non è possibile crescere, per lo meno io ora guardo il territorio di Monteroni, non è possibile crescere se non abbiamo le strade. Si va a implementare un qualcosa di difficile per le persone che già ci sono, si creano dei discontenti, un malcontento generale perché non credo che nessuno di quelli che passa la mattina dal passaggio a livello lo ritenga un qualcosa, un punto di forza del nostro territorio. Lei ha citato la sua esperienza d'assessore tanti anni fa, quindi le chiedo che territorio è oggi Monteroni, l'ho sentita molto critica e quindi è evidente che lei, in quello che ha detto il sindaco Berni, non ravvisa niente o quasi? No, non sono d'accordo, lo sappiamo reciprocamente. Sono stato sessore dal 95 fino al 2000, sessore poi vice sindaco per altri due anni, allora durava quattro anni la legislatura. Abbiamo trovato una situazione all'epoca disastrosa, non c'era niente, la Cassia, quella che vedete ora, l'abbiamo fatta noi in quattro anni. Erano fermi i lavori per motivi, già ho avuto modo di dirlo, per motivi di sequestro di una cava di breccia e con tanta fatica e tanto movimento e tanto lavoro si è sbloccata pure quella cosa, fumo pure retarguiti dal prefetto, ma voi che fate, mettete in moto, tu fai il prefetto e occupati di mafia, noi dobbiamo costruire una strada perché se adesso lei si lamenta della viabilità di oggi, allora gli autotreni passavano in via Roma, quindi fu un grosso risultato e all'epoca altre cose facevamo che mancavano, la residenza, l'asilo nido, la biblioteca, tutto in quattro anni, quindi se vuoi fare, fai, non puoi dire questo non mi tocca, questo non mi spetta, questo è il comune, abbiamo mobilitato i comuni, sono state bloccate le strade, si sono fatte petizioni, ognuno aveva il suo referente a Roma, siamo andati pure da Napolitano che era ministro degli interni, le cose si fanno così, le cose si fanno muovendosi e facendo questo sistema, in questi dieci anni che è stato fatto per la Cassia, i 90 milioni, le cose etc., è un po' un gonfiare le cose, i 30 milioni che sono pure quelli dovrebbero essere spiegati un po' meglio e soprattutto cosa ci si fa con le cose, noi abbiamo un sacco totale, ogni frazione ha i suoi problemi a sua volta di rapporti con l'amministrazione, difficoltà tremenda di rapporti con l'amministrazione, non essere ascoltati è una… e io l'ho girato tutte, non una volta, ma ben due volte prima di andare a fare un progetto e un programma, il nostro programma è nato nelle frazioni, parlando con la gente, mi dica se mi devo fermare perché se no continuiamo nella seconda parte a parlare, quindi c'è tanto da dire. Per chi ci segue, Monterone non è solo Cassa, parliamo della Cassa ma ce ne sono molti temi come ora diceva Galeazzi, c'è il tema delle frazioni e tutti altri temi che hanno portato i candidati, quindi nella seconda parte magari affronteremo anche quelli dei temi e quindi ci vediamo fra poco. Eccoci ritrovati con la seconda e ultima parte di In Politica dedicata a Monterone e Darbia, quindi si riparte con il sindaco Gabriele Berni, Monterone come tanti territori di passaggio perché è lungo una bisettrice che poi porta verso la Val d'Orcia, ha i problemi connessi anche a farci rimanere le persone dal punto di vista turistico, ma non è l'unico territorio, tanti purtroppo come si parlava anche prima, tanti sono territori che vivono delle presenze episodiche e non rimangano le persone che vengano a visitarli, quindi le chiedo dal punto di vista turistico come si può sviluppare a Monterone Gabriele. Ma guardi, la ringrazio per la domanda perché mi consente di affrontare un argomento che non sempre viene messo all'attenzione dei confronti nei momenti in cui appunto ci apprestiamo ad avvicinarci alle elezioni. Mi non sento però un passaggio indietro perché non voglio allargare ulteriormente il ragionamento, però ci tengo io ad essere particolarmente puntuale su alcune cose. E ritorno ad un tema, perché credo che sia anche questo dovuto a una questione di rispetto nell'ambito dei rapporti e del dialogo istituzionale. Sul famoso passaggio a livello e poi alle volte difficoltà a comprendere qual è il riferimento preciso su cosa avrebbero dovuto fare, noi invito a prendere contatto con l'assessore del Comune di Siena Tucci e l'assessore del Comune di Siena Capitani, proprio per i motivi che dicevo prima, abbiamo fatto degli incontri a carattere operativo e ti ringrazio in questo caso per la disponibilità, già dai momenti successivi all'insediamento dell'amministrazione comunale di Siena. Ci tengo a sottolineare un altro aspetto perché non è assolutamente scontato. Le nostre strade, in maniera particolare la Cassia, a seguito del trasferimento delle competenze, hanno avuto un intervento importante di ripavimentazione per quello che riguarda sia la tangenziale a quattro corsie che bypassa il centro abitato del Comune di Monteroni d'Arbia, il centro abitato di Monteroni, sia per quello che riguarda tutto il tratto che va da la località Curiano fino a Ponte d'Arbia. Perciò possiamo dire che con un intervento che ha un importo di circa 8 milioni di Euro e con un intervento che sarà cantierato nei prossimi giorni, tutto il tratto della Cassia, grazie al trasferimento delle competenze ad ANAS, è stato sostanzialmente ripavimentato. Questo non è un fatto assolutamente scontato. Questo perché la viabilità e le infrastrutture sono importanti, anche a ragionamento appunto che ha aperto con la sua domanda. E anche questo mi consente di dire un'altra cosa. Sostanzialmente noi abbiamo trovato, come dire, siamo dovuti partire da zero per quello che riguarda le politiche di accoglienza e di promozione del nostro territorio. Perché le amministrazioni che ci hanno preceduto, nella maniera particolare l'amministrazione Armini e l'amministrazione Pasquini, di cui Galeazzi appunto faceva parte, Armini e Pasquini che sono fra i suoi maggiori sostenitori e organizzatori di questa lista civica e si presenta per la terza volta, non rappresenta una novità da noi perché è la stessa lista civica e si è già presentata nel 2014, nel 2019 e che si ripresenta anche nel 2024, credevano che il nostro territorio avesse una sola vocazione, che era quella di cogliere quello che era in quel momento il fenomeno speculativo dell'edilizia privata. Noi invece abbiamo scoperto una vocazione turistica. Guardi, le cito dei numeri e la domanda mi fa davvero piacere. Noi negli anni successivi al Covid contiamo 65 mila pernotti nel nostro territorio e grazie alle tante iniziative di cui si sono fatte carico in questi giorni, anche molte delle associazioni del nostro territorio e grazie a loro abbiamo attratto degli eventi che hanno rappresentato una vetrina di promozione della nostra realtà molto importante. Cito per ultimo il Giro d'Italia, ma verrebbe da dire Strade Bianche, Eroica, Eroica Juniores, hanno fatto di Monteroni un riferimento per l'organizzazione di tante di queste manifestazioni e invito i nostri candidati che credo che difettano un po' di conoscenza del nostro territorio, forse perché negli ultimi anni non hanno vissuto nella nostra comunità o meglio io non ho avuto il piacere di incontrarli, se non in occasioni sporadie. Ecco, se sono andati in giro in questo periodo della campagna elettorale, anche nel fine settimana ma non solo, avranno incontrato anche tanti turisti che attraversano la nostra realtà, le nostre strade in questi giorni erano piene, quindi Monteroni sta scoprendo una vocazione turistica sulla quale mai nessuno aveva creduto ed investito. Le do un altro dato, le nostre strutture ricettive sono passate da 40 a più di 80, è un dato oggettivo riscontrabile da quelli che sono gli uffici che appunto rilasciano le autorizzazioni, è un dato che noi dobbiamo assecondare, per questo abbiamo messo in campo molti progetti, uno di questi è un progetto anche innovativo di digitalizzazione dei tanti tracciati che attraversano il nostro territorio, su quella direzione abbiamo intenzione di continuare ad investire perché l'accoglienza rappresenta una delle nostre priorità. Quello che dicevo prima, la grancia di CUNA da questo punto di vista è l'importante finanziamento che abbiamo ottenuto con la delibera di giunta regionale, se non mi ricordo male, la 422 del 2022, 2 milioni e 600 mila Euro di finanziamento, anche questa un'eredità importante venuta dall'amministrazione Armini, un contratto lasciato da pagare 551 mila Euro di cui per 350 mila Euro ci siamo dovuti far carico noi con la capacità e la necessità di reperire risorse di bilancio, non solo abbiamo ottemperato a quell'accordo giuridicamente vincolante per l'acquisto della parte dei granai, ma oggi siamo stati in grado di accedere anche a un finanziamento pubblico per la riqualificazione, la grancia rappresenterà un ulteriore volano che ci permetterà anche noi di entrare nella rete museale del territorio della provincia di Siena e allinearci con i migliori standard di accoglienza che noi conosciamo nelle nostre realtà. Linda, le chiedo la sua ricetta per far sì che Monteroni d'Arbia possa attrarre turisti, il sindaco ha citato dei numeri quindi le chiedo un riscontro su questo. Allora, i turisti che vengono a Monteroni d'Arbia sono per lo più i pellegrini, viviamo di via francigena, ci sono anche diversi stranieri che occupano i vari agriturismi, ma la maggior parte di questi sono persone che transitano lungo la nostra strada. Ce ne sono davvero tanti e infatti è per questo che c'è tantissima richiesta, perché sono tutte persone però hanno un pernottamento limitato, non è che stanno i 10 o 15 giorni, due o tre notti al massimo. Perché viaggiano? È un turismo lento, è un turismo di persone che camminano o sono in bici e questo lo do per certo perché abito proprio lungo la via francigena li vido quotidianamente. Per cercare di attrarre turisti servono, tanto si va sempre a cadere lì, le vie di comunicazione e di trasporto, da lì non si scappa. Quindi cerchiamo di darci da fare, se non uno tutti, uniti, per cercare di arrivare ad avere una strada che ci colleghi nel resto del mondo, se no siamo veramente un paesino sperduso che campa di piccole cose. Una volta che riusciremo ad avere questo, allora ci sarà la possibilità di avere anche altri tipi di turismi. So che a Buon Convento c'è una struttura veramente importante che mi piacerebbe poterla portare anche nel territorio di Monteloni d'Arbia, dove c'è un turismo non di passaggio ma un turismo d'elite. Bisognerebbe puntare anche su quelle cose lì, di gente che viene e che veramente spende soldi sul territorio, non solo quelli che arrivano e che transitano, che giustamente ci sono e meno male che ci sono, però bisogna cercare di prendere un po' di tutto, sia quelli che hanno possibilità limitate, sia quelli che hanno ampie possibilità. Perfetto. Mauro, la domanda è la stessa, come si sviluppa a Monteloni d'Arbia dal punto di vista turistico, poi visto che è finito sotto stiro come ex amministratore, mi dica lei. Il turismo è ovviamente una cosa di fondamentale importanza e va sicuramente favorito, però quello che io vedo andando in giro per il paese è il vuoto pneumatico che c'è al centro del paese. Il centro storico è in fase di smantellamento, i negozi stanno chiudendo, se non avessimo aperto i nostri tre punti di ascolto, di attività… È sicuro è successo anche a Siena, il centro del paese veramente, trovi qualcuno alla Coppa e qualcuno nei grandi, però c'è anche il problema del capoluogo e c'è il problema, il turismo poi che venga fatto, che trovino spazi, è merito della gente che si adopera, degli imprenditori che fanno impresa e forse il Comune qualcosa ci internerà, forse non lo so, però ritorno a ricordare e ne prendo l'occasione che un problema grosso, quasi grosso come la Cassia a Monteroni è la mancanza di un piano, quello che era il piano regolatore, un piano strutturale e non mi si venga a dire che nel 19 è stato fatto, perché quello è stato, abbiamo già avuto modo di parlarne, è stato fatto una cosa, un accordo con Buon Convento e sul quale il Buon Convento lamenta che dal 19 a oggi il Comune di Monteroni non ha combinato niente su quel lato lì. In assenza di un piano strutturale, in assenza di un piano attuativo non hai futuro, non hai prospettive e ho parlato anch'io con le associazioni, le associazioni degli agricoltori sono piuttosto incavolate su questo punto qui, non riescono a mettere a posto i loro vecchi ruderi, ricrearli, ristrutturarli con vincoli che andrebbero in qualche modo eliminati. Insomma c'è tanto da fare pure lì, dicevo delle frazioni, le frazioni sono tutte in subuglio e piuttosto arrabbiate. Quello che manca a Monteroni oltre in tutti questi anni, oltre a queste cose che sto elencando, poi i soldi per la grancia etc., che io sappia c'è stata una delibera del regionale che ha dato finanziamenti a tre comuni per 15 interventi, altro io vorrei sapere questi soldi dove stanno, quelli che citava Berni prima e perché in questi dieci anni escono fuori solo ora, che cosa è stato fatto? Lì io vedo una grancia, è che io sono cittadino del mondo, non faccio questo come mestiere e non vivo dello stipendio del comune o altro, io vado in giro, io faccio tante cose, qualcuno dice ma lui vive a Roma, no ma io ho vissuto pure due o tre anni a Milano, ero Presidente della Società Italiana di Reumatologia e stavo più a Milano che qui, ma non mi sembra che questa sia una colpa, io dico quello che vedo oggi e quello che non è stato fatto in questi dieci anni. Pietro, una domanda anche a lei, dal punto di vista turistico se può essere una ricetta per sviluppare Montero di Verdi. Senz'altro che il turismo è un volano molto importante, è un turismo come veniva detto prima, un turismo lento, tutto improntato sulla via francigena dove pernotano una notte, perché poi la mattina dopo i più ripartono per fare un'altra tappa, al massimo se si riposano due notti, ma insomma questo è un turismo di passaggio, non è un turismo appunto di residenza, cioè che stanno dieci o quindici giorni da noi nel nostro territorio, anche se ci sono delle strutture di agriturismo un po' di più, però comunque la maggior parte del turismo è il turismo sulla via francigena, il turismo molto di passaggio non c'è e quindi bisognerebbe che venisse incrementato un po' di più il turismo un pochino più, più stanziale, un pochino più che rimanga qualche giorno di più e che spenda sul nostro territorio. Allora vi faccio l'ultima domanda, vi pregherei di essere coincisi perché almeno rispettiamo ai tempi e vi chiedo in un comune, parto da lei Linda, in un comune che comunque è sotto 10 mila residenti se non sbaglio e con tutte le problematiche che abbiamo a livello nazionale di portare i cittadini a votare, flash la risposta su come si convincono gli elettori a andare a votare perché è importante votare soprattutto per la propria amministrazione perché solo in quel modo si esprime la propria idea e si cambiano i connotati in un comune se abbiamo voglia di cambiarle. Il voto è la massima espressione di democrazia e sono convinta che questa volta con la mia presenza ci sia un'opzione in più per le persone per poter esprimere anche loro il loro parere. Per quanto mi riguarda le ultime elezioni c'erano solo tre liste di centro-sinistra, queste elezioni c'è anche una lista di centro-destra, una lista di centro-destra a livello civico perché come ho sempre detto io sono una civica non ho tessere, io sono solo appoggiata dai partiti perché mi conoscono e perché pensano che posso fare qualcosa di buono su questo territorio. Per portare le persone a votare il comune di Monteroni è un comune abbastanza complicato, è un comune abbastanza complicato perché non tutti si vogliono esporre. Ci sono state diverse persone che mi hanno detto Linda noi ci siamo però abbiamo paura che esponendoci possiamo magari essere allontanati o perlomeno messi da parte sui nostri rapporti sociali. Addirittura. Quindi a me è una cosa che dispiace questa perché è una democrazia, siamo tutti liberi e quindi bisognerebbe avere tutti la libertà di poter dire no guarda io la penso in maniera diversa ma senza problemi, senza rancori perché ci mancherebbe. Quindi quello che faccio, l'appello che faccio diciamo alle persone è che questa volta avete la possibilità di andare a votare, avete la possibilità di dire la vostra nel buio delle vostre cabine elettorali. Se credete che ci sia la necessità, il bisogno di un cambiamento io ci sono e sono qui. Se credete che finora è andato tutto bene sapete da voi come fare. Ha detto che conferma la difficoltà esporti quindi gli chiedo la stessa cosa. Lo dico chiaro. Molti si chiedono ma che ci fai tu candidato? Quando mi fu offerta questa opportunità io dissi sì va bene l'ho fatto, mi piace la politica. Ripeto ho avuto la tessera da 50 anni, io dal 68 in poi l'ho fatta tutte. Però dissi cercate qualcun altro prima di me. E furono trovati due o tre giovani, 30-40 anni disposti a mettersi in gioco e a dare la sua parte. È stato il terzo mandato la maledizione divina nei confronti dei quali sono assolutamente contrario. Assolutamente. Come da statuto del PD, articolo 28. Adesso sulla scia di Salvini ci siamo fatti pure il terzo mandato. Ma vedete questo ha allontanato tutti. Improvvisamente avevano tutti paura. Eh ma mi ricattano, ma poi mi dicono questo, ma poi vengo emarginato, ma poi qua, poi là, poi su. È vero. C'è questo clima. Sono eccessivo? Non lo so. Ma io vedo questo clima. La gente ha timore. Col mio arrivo è cambiata. Forse anche con l'arrivo suo. È cambiato il clima. Qualcuno ha pensato. Io ho cercato un incontro con i giovani tra le prime mie iniziative alle ville di Corsano. Dissero che sarebbero venuti questo gruppo e arrivò un messaggio a chi ci aveva invitato. Non veniamo perché non crediamo più in voi, non crediamo nella politica e non vogliamo nemmeno votare. Ho preso i giovani e ho detto voi siete responsabili voi stessi, di tutto quanto. O entrate, io vi offro due posti in Consiglio Comunale. Riunitevi, fate come vi pare, venitemi a dare due nomi e poi non mi venite più a lamentare che nessuno vi vede, che nessuno vi aiuta e che nessuno vi sente e che non c'è niente per voi. Certo, a Monteroni non ci sta niente per i giovani. È il nulla. Ci sono problemi anche seri, non voglio andare oltre perché ci sono fenomeni che andrebbero un po' più valutati. Però io non ho detto perché devono votare meglio. Se non volete tutto questo per favore votate la lista civica. Io innanzitutto vorrei ricordare ancora una volta alla candidata a priori che io non faccio parte del campo del centro-sinistra, ma noi siamo la sinistra di classe. È una cosa molto diversa perché siamo alternativi sia al centro-sinistra che tantomeno al centro-destra, chiaramente. noi rappresentiamo la sinistra di classe, rappresentiamo gli ultimi e chiediamo appunto che per un cambiamento, per un posizionamento ancora più a sinistra e verso gli ultimi di votare per noi. Sindaco, chiudiamo con lei. Aspirante sindaco. Scusi, aspirante sindaco. Attualmente però è sindaco, questo lo possiamo dire. No, non è sindaco. Comunque è un candidato sindaco. chiudiamo con lei dicendo che i suoi avversari parlavano di timori, quindi le chiedo se ci sono questi veramente timori esporsi e come si convincano gli lettori a venire a votare. Ma guardi, intanto ringrazio gli altri candidati che mettono anche in difficoltà perché mi pare che loro stessi abbiano fatto un po' un appello a voto per la nostra lista, perché non vorrei che scambiassero i timori con il consenso, che è cosa completamente diversa. Poi la voglio rassicurare anche se è un'altra cosa, perché sono costretto a dirlo anche ai nostri cittadini, non vi preoccupate che se domani dovesse succedere un qualcosa tipo doverci adoperare per un'emergenza sanitaria o piuttosto un'emergenza legata al rischio idrogeologico, c'è ancora un sindaco in carica e sarà completamente operativo, perché i sindaci sono in carica per le attività che riguardano l'amministrazione comunale, non per le attività che riguardano la campagna elettorale fino all'8 al 9 giugno. E quindi voglio rassicurare i miei cittadini che noi fino all'8 al 9 giugno continueremo a lavorare anche per l'amministrazione comunale e non solo per la campagna elettorale come abbiamo fatto da 10 anni a questa parte. L'altra cosa, c'è una cosa che condivido con Galeazzi, ha ragione su un aspetto, il nostro centro storico ha bisogno di essere completamente ribaltato. Sa da che cosa? Da quell'intervento che hanno fatto i suoi sostenitori, perché l'intervento che fu fatto in Via Roma ha sostanzialmente sfigurato il centro del nostro Paese. Noi abbiamo iniziato ad intervenirci con grandi difficoltà, quello ha determinato la chiusura di molte attività commerciali e le difficoltà di altre attività commerciali con grossa difficoltà hanno resistito. Noi abbiamo iniziato a fare una serie di interventi con una progettazione integrata che ha visto la realizzazione proprio in questi giorni, terminata in questi giorni, di una piazzetta nel centro del Paese per favorire un luogo di aggregazione di socialità. Abbiamo già un progetto che presenteremo per la richiesta di finanziamenti e anche per la riqualificazione sempre di un intervento fatto dalle amministrazioni, dai rappresentanti di amministrazioni che sostengono le altre liste nella parte di fronte alle scuole medie. E guardi come si convincono gli elettori in maniera particolare per le elezioni di un comune. Intanto noi non ci candidiamo al congresso di un partito, ci candidiamo a dare risposte ai cittadini e agli elettori del comune di Monteroni d'Alba. Intanto con i fatti, perché le amministrazioni comunali parlano con gli atti. Quindi guardi, le lascio agli atti, può consegnarli al candidato Galeazzi, ma ho anche altre opie per gli altri candidati. Noi abbiamo avviato il piano strutturale, nel 2019 abbiamo fatto nel 2022 la conferenza di copianificazione con la Regione Toscana. Glielo consegno, lo può consegnare anche agli altri. Lo sai perché? Perché questo argomento per me è molto stimolante, perché noi ci siamo candidati dieci anni fa per voltare pagina. Prima venivano fatte solo ed esclusivamente interventi di edilizia privata. Da dieci anni a questa parte noi abbiamo detto basta, perché il nostro indirizzo che abbiamo ribadito alla Regione Toscana è consumo di suolo zero e noi invece di fare gli interventi di edilizia privata ci siamo concentrati solo ed esclusivamente sulla realizzazione di opere pubbliche. Questo è un indirizzo che abbiamo già acquisito e messo agli atti della conferenza di copianificazione nell'ambito dell'iter di revisione appunto del piano strutturale con la Regione Toscana e questo è un indirizzo che intendiamo ribadire nel nostro programma elettorale. Solo opere pubbliche. Invito tutti a girare per il nostro territorio. Noi in questi anni abbiamo realizzato circa 12 ponti a seguito dell'alluvione del 2015, praticamente tutti i ponti che esistevano nel nostro territorio e che erano stati realizzati nella storia, nel corso della storia della nostra comunità, noi li abbiamo dovuti e realizzati nel corso di dieci anni. È in corso di realizzazione un intervento che ci consegnerà, ci regalerà un nuovo edificio scolastico, un nuovo asilo nido che amplierà l'offerta formativa di ulteriori 60 posti a disposizione delle nostre famiglie e quindi avranno un'ulteriore opportunità per conciliare le difficoltà dei tempi di vita con quello dei tempi di lavoro. Abbiamo realizzato altri due edifici scolastici, anche su questo potrei starci una serata, voglio solo raccontare l'esperienza che ho acquisito per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia comunale di Ponte a Tressa. Siamo arrivati anche lì, abbiamo trovato un cantiere fallito ereditato dalle amministrazioni precedenti, lo abbiamo portato a conclusione su quello siamo stati capaci di dirottare dei finanziamenti residui che altrimenti sarebbero stati persi come è stato fatto dalle amministrazioni precedenti, per ammortizzare anche il conto economico di quella importante spesa, l'intervento è realizzato, conta un importo di 1 milione e 700 mila Euro, ma quell'intervento oggi ci ha regalato una nuova scuola che può accogliere fino a 100 ragazzi, una scuola che ha dei criteri di efficientamento energetico e di comfort che riguardano gli standard della modernità, allo stesso tempo abbiamo realizzato un altro edificio scolastico che è la nuova scuola di Ponte d'Arbia, oggi abbiamo preso finanziamenti e già realizzato interventi per cui possiamo dire che tutti gli impianti sportivi del Comune di Monteroni, a partire da quelli delle frazioni Ponte Atressa, passando a Ponte d'Arbia, Ville di Corsano, Monteroni sia all'impianto del tennis sia all'impianto del calcio, saranno riqualificati grazie sempre a un finanziamento sulla linea comunitaria del Port Fesre, sempre la famosa delibera 422 del 2022, alcuni di questi sono in fase più avanzata per le procedure di affidamento dei lavori, inizieranno ai primi di giugno i primi interventi sul campo sportivo di Monteroni, sono in fase di affidamento quelli per la realizzazione dell'impianto sportivo delle Ville di Corsano, sono già stati realizzati quelli dell'impianto sportivo tennis di Monteroni e gli altri appunto sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori. Cosa voglio dire? Voglio dire che i cittadini hanno bisogno di concretezza, di un'amministrazione che è sempre disponibile e noi in questi anni ci siamo voluti caratterizzare perché per noi i cittadini sono tutti uguali, non esistono cittadini di serie A e di serie B. Io mi sono candidato 14 anni fa proprio perché altri avevano un vizio antico della politica, c'erano sempre 4-5 persone che dietro le quinte decidevano cosa doveva fare il sindaco. I cittadini di Monteroni dal 2014 sanno che le cose, come dire, e l'interfaccia dell'amministrazione comunale è colui e coloro la squadra che eleggono alle elezioni, dietro di noi non abbiamo altre persone perché anche io, come gli altri candidati, tengo ad una cosa in maniera particolare. Sono disponibile a rinunciare a tante cose nella mia vita e per questo posso rassicurare il signor Galeazzi che anche io non ho bisogno dell'amministrazione comunale per vivere perché ho ben altre alternative. Ecco, posso rinunciare a tutto ma non alla mia libertà. Perfetto, questo era il quadro finale con Monteroni, io voglio ricordare solo una cosa, in qualunque modo la pensiate andate a votare perché questo è l'unico modo in cui la democrazia viene portata avanti. Buona serata e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti